Presidente, il Partito Democratico ancora una volta arriva all'appuntamento della presentazione delle liste dopo un duro scontro interno, c'è il caso Petitto, c'è il caso Farina, è un partito che arriva indebolito così all'appuntamento elettorale? Il Partito Democratico è fatto da gente che si candida in quel partito, io sono sicura che saremo il primo partito, avremo uno straordinario risultato perché siamo tutti uniti, a me non interessa che venga eletta Rosetta D'Amelio, a me interessa che il Partito Democratico unito, con coerenza, con persone che sono sempre state coerenti, raggiunga un eccellente risultato, ma di questo sono sicuro perché la gente saprà capire qual è il progetto politico del Partito Democratico. Stamattina Petitto sarcasticamente... No, non rispondo, ho altro da fare, da fare la campagna elettorale per seguità. E a Demita che è un vostro alleato, ma ancora stamattina definisce il PD come un partito senza pensiero, quindi senza futuro? Va bene, io credo che ci abbia un grande futuro, spero di avere, a Demita, vi auguro di avere lo stesso futuro del Partito Democratico e che viva una lunga vita.